Allarga ora per Teo rischiando qualcosina Si fa vedere Giroud che allarga bene per Leao Vediamo se serve bene dentro Teo lo serve bene Teo! Teo! Il Milan senza idee! Il Milan senza idee! 1-0 Ternandez! Ma il Milan soffriva ragazzi no? Il Milan soffriva Il centrocampo, il centrocampo, il centrocampo Teo! Teo! E' de gole, de gole! Teo! Di tutti eh! Di tutti eh! Di tutti eh! Chiacchiericci! Chiacchiericci! Teo! Teo! Ternandez! Nonostante l'incredibile dominio del Napoli in questi 25 minuti Di dominio assoluto a San Siro Il Milan fa un'azione fatta bene E si porta in vantaggio Leao dentro per Teo Hernández Esce Gollini Teo lo anticipa Sul primo palo a fare 1-0 Ma ti ha dato dei rigori che non stanno in cielo e in terra è un concetto sbagliato che puoi passare a chi non vede le immagini non puoi dire clamoroso è un rigore che non si fisica questo è uno spalla contro spalla ma che spalla contro spalla? ma cosa stai dicendo? ma dov'è lo spalla contro spalla? ma per piacere ma non è mai rigore una roba del genere ma però sotto l'altro le mani non si allungano se dici che è spalla contro spalla ma nessuno è un contatto di gioco ma scusami dire che è un rigore clamoroso non dato è un messaggio sbagliato è bene è un rigore clamoroso non dato è dubbio è dubbio ma non puoi dire un rigore non dato però perdonami perché mi fate impazzire allora a quello di Juventus è rigore perdonami a quello di Juventus è rigore anche dire che spalla contro spalla la spinta di Danilo su Turame è rigore ma non era Danilo era Bremer e non l'ha spinto come non ha spinto è la stessa cosa dai va bene voi credete il mito dei rigori non dati questo non è rigore poi domani vediamo i moviolisti e vedrai che non ti dicono che è un rigore perché è difesa della posizione la moviola cambia da un giorno all'altro mi sembra di capire quest'anno non siamo scesi da Marte non siamo scesi da Marte quest'anno perché l'Inter è prima siamo scesi da Marte improvvisamente tu che scesi da Marte e sei anni che c'è il VAR non esiste spalla contro spalla non esiste spalla contro spalla fai una narrazione sbagliata gli metti le mani addosso il VAR non puoi chiamare un episodio del genere primo perché non è un errore grave secondo perché è una rotazione di campo poi vediamo se è rigore secondo me non è rigore ma tu non puoi dire che è un rigore non dato ma tu non puoi dire che è spalla contro spalla non è spalla contro spalla perdonami perdonami se io non posso dire che è rigore perché se tu mi dici che è rigore questo io ti dico che è rigore quello di Bremer su Duram ma non è vero sono cose completamente diverse qua ci sono le mani sul petto di Loftus ma qui ma che mani sul petto ma guarda l'immagine ma quali mani sul petto occhio al Napoli Simeone è fuori occasione per il Napoli cos'è? non c'è niente? allunga il pallone no ma cos'è? niente ha fissato fallo e ammunizione ma solo perché Politano si è fermato se no non fischiava eh no gli ha preso dai si no però non lo stava fischiando eh finita non mi sembrava lo stesso fischio finita ormai è l'ultima azione Marcello sei stato zitto tutta la partita hai tirato la gufata politica proprio all'ultima no no finita questo non l'ha neanche toccato Napoli non è non l'ha neanche toccato ma non è vero dai ma come non l'ha toccato l'ha toccato? ma per favore è toccato ma non vedete dei film che non esistono attenzione perché 96 punizione c'è anche Gollini c'è anche Gollini nell'area di rigore del Milan una delle ultime azioni della partita andrà se non sbaglio Politano con il sinistro poi lasceremo la come si dice Moviola oh c'è uno qua sulla sinistra libero al buon fusato che tutto sa che ha la verità in mano cross di Politano Megnan con il pugno da allontanare gradirei la fine della partita è finita ragazzi è andata male anche a sto giro 1-0 per il Milan ma a noi c'è andata male avete gufato la mano è andata male è andata male aspetta che questo lo riporta ma a noi c'è andata male è finita è finita è finita è finita è finita lasciamoli parlare facciamo